Nelle puntate precedenti Stai calmo Ho letto il fascicolo che riguarda l'omicidio di tuo padre So cosa è successo Allora Risolviamo questo caso insieme Ed è qua per caso Sì C'era una gran confusione Il sangue è secco Max Credo che gli assassini di tuo padre Erano più di uno Max Credo che gli assassini di tuo padre Erano più di uno Che cavolo Un po' a Ehi! fa freddo stasera tranquillo devi solo parlarti perchè non andiamo su di sono passeggiate cosa vuoi da voi guarda che bello guarda che bello lasciami stare guarda che bello 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 Che tipo di problemi? Dopo l'omifidio di mio padre, continuo a vedere delle maschere. E ora sto cercando di risolvere il caso dell'omicidio con un ispettore di polizia. Secondo me devi lasciar perdere questa cosa. Insomma, è successo un sacco di anni fa. Lo so, ma ho veramente bisogno di scoprire chi è stato. Ma cosa hai fatto alla mano? No, niente, mi sono tagliato con il coltello mentre cucinavo. Vabbè, adesso non mi vado a pulire. Tutto bene? Sì, sì, tutto a posto. Sì, sì, tutto a posto.